Presidente, ieri sono iniziate le celebrazioni per la festa della Madonna delle Grazie e continueranno e nel frattempo la novità di quest'anno è che sono tornate le giostre. Sì, le giostre sono indipendenti da noi, noi ci occupiamo dei festeggiamenti laici, anche molto un po' non si è potuto fare la processione, però la Madonna va in pellegrinaggio per la nostra città nelle zone più significative, con un camioncino e i fuochi purtroppo perché per il problema del Covid non ce l'hanno fatto fare. È venuta anche la Commissione, è stata una rinuncia che abbiamo, però tutto il resto si fa regolarmente, quindi sarà sicuramente una bella festa perché oltretutto siamo riusciti a coinvolgere la Riccitelli, il Braga, la Benetto Marcello, della Noce, cioè è una festa per la prima volta, pitture, poesie, la settimana del libro con la casa editrice Artemia, è stata per la prima volta che la città si è stretta intorno a questo santuario grazie anche alla possibilità di fluire del chiostro che è bellissimo e le iniziative praticamente sono cominciate dal 20 maggio e finiranno il 3 luglio con l'estrazione della lotteria. Ecco, l'anno scorso è stata molto sentita, sarà stato il lockdown, l'emergenza eccetera, quest'anno c'è anche molta attesa per questa festa, non come l'anno scorso? Beh, questa è una festa che non solo tutta la città, tutta la provincia ci si ritrova, tant'è che noi con molti molti sacrifici proponiamo la lotteria perché è l'unica fonte di sostentamento di questi festeggiamenti, non ci sono altre forme, però noi tramite la lotteria facciamo conoscere la città che questa festa si fa e finché i cittadini ci aiuteranno a comprare i biglietti la faremo, se no dovremmo farla sempre in modo ridotto e non come vorremmo.